e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video e oggi vi faccio vedere questo nuovo arrivato ed è il primo film della saga di scream ed è uno dei primi film che ho in 4k ultra hd più blu ray e della steelbook di scream andiamo a visionarla insieme un'altra saga horror che mi piace parecchio come sapete io i film horror mi piace vederli e li ho visti anche in 3d bellissima steelbook questo è il retro l'iconico slasher che ha lanciato il franchise di scream ha dato una nuova vita al genere horror torna con un nuovo master in 4k contenuti speciali eccoli qua questo è il retro della steelbook questo è laterale scream andiamo a vedere adesso interno che spettacolo ragazzi scream 4k ultra hd più blu ray disc che sarebbe questo qua in dolby audio dts steelbook favorosa film che dovrà assolutamente vedere visto che amo il genere horror dietro è così do you like scary movies ti piacciono i film paurosi fantastica fantastica steelbook di scream and westcraven film e niente ragazzi mettete vi piace commentate al canale e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video edizione comunque venticinquesimo anniversario e niente ragazzi ciao a tutti belli gopro e vi saluto a tutti i resta video e e e e e e e